Amici di Giappone a quattro mani, un vlog per annunciarvi le ultime novità e i nostri programmi. Allora, me li sono scritti perché è troppa roba. Vabbè, allora, innanzitutto, ovviamente come sapete non ci saranno purtroppo nuovi video dal Giappone fino almeno il prossimo marzo, tenendo le dita incrociate. Ho appena terminato di nuovo tutti i documenti e le robe per fare per la terza volta l'iscrizione alla Waseda per fare appunto lo scambio. Ad oggi sembra che sembra fattibile e dovrei stare sei mesi. Poi da metà ottobre in poi vedremo come negoziare per fare eventualmente un semestre aggiuntivo verso un'altra facoltà. Vedremo. Comunque, questa è la motivazione per cui ho fatto un sondaggio sul gruppo Facebook, non sulla pagina sul gruppo, quindi se volete mettere il vostro pensiero andate sul gruppo Facebook, scegliete una delle proposte fatte oppure aggiungetene altre come preferite per dire la vostra sulla nuova programmazione appunto del canale Giappone a quattro mani. Così sentendo anche le vostre opinioni vedremo di fare dei video un po' più nelle vostre corde perché appunto sembra che gli ultimi video non vengano visti, quindi vogliamo capire se è un discorso di contenuti o qualche altra motivazione. Se non avete Facebook o non ce n'avete voglia potete anche lasciare un commento qua sotto, però se me ne mettete tutti lì sul gruppo Facebook, io poi faccio prima a contare, per farmi un'idea e insomma regolarci e vedere cosa fare. Stiamo pensando anche di fornire dei servizi su abbonamento, visto che YouTube ce li ha attivati, quindi proprio con un prezzo minimo minimo darvi cose più di qualità, però devono essere cose che vi interessano. Per il resto continuere appunto a fare i nostri video. Questo discorso è più su servizi intesi come magari dei corsi o video specifici on demand o comunque delle cose aggiuntive tipo dietro le quinte. Insomma ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando. Ma più che altro vi voglio annunciare le prossime live perché non saranno sul nostro canale, quindi questo video serve appunto per indirizzarvi sui canali altrui, perché noi faremo allora venerdì 2 ottobre alle 16.30 una live sul canale YouTube di BISO Multimedia in Giappone dove parleremo di musica giapponese ma parleremo anche di tantissimi altri argomenti. Sarà una live interessante in occasione del suo compleanno e appunto ci farebbe piacere vedervi lì. Vi metterò comunque tutti i link in descrizione. Mentre domenica, domenica 4 a questo punto, senerdì 2, domenica sarà 4, saremo sul canale Twitch di ViviGiappone con il mitico Davide Bitti su invito di Davide Moscato. Ci siamo imbucati per ringraziare in questa live e ci sarà appunto anche Davide Moscato di Tiva di Giappone e si parlerà del linguaggio giapponese della vita di tutti i giorni e del linguaggio degli anime. Una cosa del genere mi hanno detto, quindi questo sarà veramente una cosa interessante e finalmente conosceremo, non possiamo dire dal vivo perché sarà sempre per via telematica, ma Davide Bitti, quindi siamo molto contenti di ciò. Invece, ritornando sul nostro canale, abbiamo in programma una live intervista con i ragazzi del canale Red e Damame che ha avuto parecchio successo e sta avendo ancora successo anche se al momento non stanno caricando nuovi video e sono simpaticissimi, ci siamo parlati a volte appunto offline e non vediamo l'ora di intervistarli, scusate. E però non abbiamo ancora un giorno preciso, dobbiamo metterci d'accordo perché ci sono vari impegni di mezzo e vi diciamo solo che sarà di sera verso le otto e mezza, però il giorno non è ancora deciso. Penso che non questa settimana, probabilmente la prossima perché Andrea è preso fin qui e visto che gli ho fatto fare tante live e che faremo tante live, mi ha detto che andrà in sciopero per un certo periodo, quindi non vi posso dire niente di sicuro, senza contare che abbiamo altri programmi, altri video a cui sto lavorando, quindi speriamo di riuscire a darvi anche una qualità maggiore. Io adesso calcolate che sono anche senza internet in casa, sto facendo tutta la cellulare e domani inizieranno le lezioni online. Bene, il mio cellulare non vuole scaricare l'app per appunto poterle vedere perché pensa ancora di essere in Giappone e mi dice che non è disponibile per la mia area geografica. Vabbè, devo trovare il sistema per non fargli più credere di essere in Giappone. Su questo vi saluto e mi raccomando andate a vedere i link che vi metto e andateci a cercare tra i vari social. Ciao!